Ciao, sono Francesca e leggo Presdonna. Il libro della biblioteca di presenza donna che ti voglio consigliare oggi è Viola e il blu di Matteo Gussola, Salani, editore. Viola è una bambina particolare, a lei piace correre, arrampicarsi sugli alberi, non ha paura di cadere e non preferisce giocare alle principesse. Ma la cosa che piace tanto a Viola è il colore blu e non capisce perché invece tutti hanno da ridire su questa sua preferenza. Dovrebbe piacergli il rosa perché è una femmina. Inizia così un dialogo tra Viola e il suo papà e a poco a poco Viola scopre che i colori sono tutti belli ma che ognuno nella vita deve poter trovare il proprio colore per vivere profondamente la propria identità. È un libro che richiama alla bellezza delle diversità e alla bellezza di sentirsi tutti uguali ed avere tutti gli stessi diritti. Viola e il blu, Matteo Gussola, Salani, editore. Puoi prenderlo in prestito nella biblioteca di presenza donna. A video troverai tutti i riferimenti. Leggi Presdonna. A video troverai tutti i riferimenti.